Domenica 27 a partire alle ore 20.30 in Piazza Ferrara, al Teatro Nuovo, avremo la possibilità di organizzare la seconda edizione del TEDx Ferrara. È stata un'edizione molto particolare, tant'è che il tema prende appunto il nome di Age of Change, dove 12 speaker ci racconteranno cos'è stato per loro e cosa sarà il cambiamento da società attuale anche in prossimità e in lungo periodo. Per chi conosce il format TEDx, generalmente il programma lo fai un anno prima, quindi devi anche un po' prevedere quali potrebbero essere i speaker che possono portare valore aggiunto a un anno successivo. Infatti noi abbiamo fatto un palinsesto metà ferrarese e metà extraterritoriale, in modo che possiamo mettere risalto sia figure del territorio, ma sia anche portare know-how, conoscenza nuova dentro la città. Tra questi sicuramente spiccano la nostra presentatrice Miriam Priviati, che è la nostra conferma per il secondo anno consecutivo, che sarà la nostra caronte, cioè compagnina dall'inizio fino alla fine. Inoltre, tra le tante novità che abbiamo quest'anno, abbiamo anche delle piccole adventures, delle attività matutine, dove tra cui Miriam si occuperà di fare un corso di scrittura creativa per terapia, che sarà in officina a Baluardi dalle 10.30 alle 11.30, ovviamente gratuito per i partecipanti del TEDx Ferrara. Grazie a tutti.